Costantino è un uomo che sta ancora cercando la sua strada. Sente che il cristianesimo è il futuro, che il cristianesimo sarà la forza vincente del domani e cerca di sfruttarne abilmente le prerogative. Tiene al proprio servizio i vescovi, li nomina come amministratori e colora di politico la loro missione religiosa. Crede nel dio dei cristiani ma contemporaneamente mantiene la carica di Pontefice Massimo che era la carica principale della religione pagana romana tradizionale. Fa di Roma il centro del mondo gettando le fondamenta della Basilica di San Pietro che sarà il punto di gravità permanente della cristianità ma intanto costruisce ad est una nuova capitale, Costantinopoli. Sente di avere la missione da dio di unificare l'impero ma lo spezza in due tronconi che seguiranno destini completamente diversi.